Niente più arresti domiciliari, ma solo obbligo di firma per quattro dei cinque indagati ritenuti responsabili di avere commesso una rapina all'interno di un'agenzia di viaggi di San Cataldo. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Caltanissetta, accogliendo i ricorsi presentati dagli avvocati difensori Gianluca Amico e Sergio Messina. Il quinto indagato resta invece agli arresti domiciliari, misura che gli era stata concessa in precedenza, dopo che al momento dell'arresto era stato condotto in carcere. Il fatto risale al 19 agosto scorso e alla base di tutto ci sarebbe una presunta condotta inadempiente da parte dell'agenzia. I cinque indagati si erano infatti presentati all'interno dell'esercizio commerciale per chiedere la restituzione della somma pagata per una crociera, ma dopo essersi sentiti rispondere da una delle titolari che non c'erano con tanti in cassa, la situazione è degenerata. Secondo il racconto dei titolari e di una dipendente, i cinque non avevano risparmiato minacce al loro indirizzo e avevano portato via un ventilatore, un frigorifero, una televisione, un computer fisso con il relativo case, una stampante, tre olorogichea e persino una decina di modellini di navi da crociera. Il tutto per un valore di circa 3.000 euro.